we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi quante novità stanno uscendo man mano che passano i giorni i leakers mondiali riescono a scavare prepotentemente fino nei meandri dei codici sorgenti e appaiono novità davvero super super interessanti nel video di oggi ragazzi parleremo anzi vi farò vedere un gameplay incredibile dedicato al mostro che sappiamo essere nel mare quello in poche parole che è uscito dalla grotta di picco e si è diretto proprio in un punto che ora vi mostrerò ma tante novità e tanti aggiornamenti oltre a dei file audio per la nuova modalità tempo limitato orda zombie veramente fatta bene ragazzi diamo una chance a questa modalità nonostante ci siano gli zombie perché merita davvero di essere provata e poi ragazzi ve lo avevo già anticipato nel video di ieri mattina il nuovo legends pack ci sono delle teorie molto molto vicine a quello che sarà ragazzi e voglio condividerle insieme a voi prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi nello shop mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eccetera ve la devo fare raga vi devo fare la domandina che lo sapete ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto ed è una domanda davvero molto molto facile ragazzi ma che livello stagionale sei arrivato dai siamo oramai nella quinta settimana di gioco voglio sapere un po quali sono i vostri progressi io ci sono quasi e ragazzi mi mancano veramente 40.000 punti esperienza per terminare anche i livelli stagionali di questa season non vedo l'ora di sbloccare ovviamente standardo emoticon e lo spray ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere qualche spezzone relativo alla nuova modalità orda ragazzi intanto quello che state vedendo è un gameplay quindi è proprio un fotogramma preso dalla modalità in sé ci sono delle novità intanto vedete una skin una default skin ragazzi ma la cosa che ci interessa è i dati che ci sono in basso a destra come vedete più facciamo kill e più prendiamo punti quindi una serie di combo il più possibile da fare assolutamente e ovviamente la modalità è a tempo quindi come state vedendo c'è un timer che ci indica quanto tempo ci passa tra un'orda e l'altra quello che sappiamo ragazzi lo vediamo proprio là in alto ci sono tre tipi di mostri blu verdi a 4 blu verdi arancioni e rossi ragazzi ognuno di questi rilascia una specie di cubo un oggetto che adesso vi faccio vedere e questo oggetto dovrebbe dare delle cose bonus al giocatore o meglio sembrerebbe alla squadra di giocatori che lo riesce a recuperare tra l'altro ragazzi ci sarà un numero molto limitato di player in questa mappa si pensava 4 potrebbe essere in 4 o potrebbe essere massimo in 4 squadre da 4 ma bisogna capire un attimo ed è una modifica della mappa base di fortnite riadattata appunto a questa ltm quindi una cosa assolutamente da provare secondo me l'immagine di cui vi stavo parlando è proprio quella che vi mostro e non so se avete notato che ci sono incise delle rune quindi ancora si parla del cubo tra l'altro ieri vi ho fatto vedere che c'erano anche delle sfide inerenti la modalità orda che vi regaleranno un bel po di punti esperienza ma anche una una schermata di caricamento e se non sbaglio una skin per armi e veicoli ma voglio fare di più ragazzi e voglio farvi sentire intanto ecco l'immagine di una schermata di caricamento che come vedete va proprio a riprendere questa modalità e potrebbe essere data l'immagine anche il momento in cui usciranno le due skin dei predoni molto molto belle ragazzi ascoltiamo insieme qualche spezzone di audio arrivano calmi calmi questo probabilmente è un pilastro che si crea attivazione di un totem che spawna i mostri altri rumori interessanti non posso farveli sentire tutti ragazzi perché sapete che non si può ma guardalo qua ma c'è un sacco di roba davvero super interessante relativa appunto ai file di gioco ai file sonori di questa modalità che speriamo arrivi il prima possibile ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua un leakers che dice una teoria super interessante non ditemi quello che ho letto ragazzi ma cosa vuol dire in italiano che ci sono nelle skin criptate che devono ancora uscire tre skin molto comuni tra di loro per il nome shadow schoolie shadow bird e perfect shadow quindi tre skin che richiamano la parola shadow che vuol dire ombra quindi ragazzi molto probabilmente potrebbe essere lo shadow pack dopo lo shadow legend dopo il frozen legend dopo il lava legend anche lo shadow legend potrebbe essere quello che arriva e abbiamo dei concept interessantissimi relativi proprio alle skin che devo dire se fossero veramente così sarebbero davvero molto molto interessanti sarei che mi piace il nero come colore ma c'è proprio da dire che dai che figata sarebbe immaginate giocare con queste skin con la copertura quella per le armi di john wick dove le armi sono tutte nere tanta tanta roba per questo pack che non vediamo l'ora ovviamente sia disponibile disponibile ma andiamo avanti e voglio un attimo parlarvi ancora del gran del greener launcher quello nuovo abbiamo delle cose nuove da farvi vedere anzi da farvi sia vedere che sentire ragazzi in primis voglio porca vacca non so dove cavolo l'ho messo l'ho messo da qualche parte ma ho un file video eccolo qua ragazzi che l'ho trovato relativo proprio al nostro nuovo lancia granate in game come vedete ragazzi è praticamente confermato che faccia parte del battle royale non di save the world quindi un nuovo ingresso una nuova arma esplosiva che farà il suo ingresso non vi faccio sentire i file audio adesso ve li faccio sentire domani così diamo un attimo spazio ragazzi a quello che state vedendo in questo momento allora cosa cavolo sta succedendo ovviamente tutti gli occhi sono puntati ragazzi sulla creatura che è uscita da picco polare e probabilmente anzi sicuramente si è diretta in mare perché vi dico sicuramente perché ragazzi quello che sto per farvi vedere è l'effetto che molto presto si comincerà a vedere nel mare proprio vicino a dove c'è l'ultima impronta prima di sparire in poche parole siamo nella posizione più o meno dell'ex laboratorio della latrina non fate caso al al contorno cioè alla mappa e al fatto che sia sospeso in aria serve solo per farvi vedere ragazzi come sarà l'effetto ed eccolo qua ragazzi come vedete c'è qualcosa in acqua questo dovete immaginare che sia visibile nel mare non di certo nell'aria e come vedete qualcosa si muove e crea un vortice che devo dire è molto molto misterioso e altrettanto interessante che lascia semplicemente crescere il nostro hype per quello che sarà l'evento numero 2 anzi in realtà l'unico evento visibile in game della season numero 9 beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle ore 13 ciao 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 ciao